Musica E' la rumena Luisa Caradeanu, la vincitrice della settima edizione del campionato europeo dei croupiers. La giovane in forza al casino di Bucharest ha conquistato il titolo di miglior croupier d'Europa e due side events, il roulette shipping e il pushing stacks. Una vittoria particolarmente significativa per la Caradeanu che pur di non gravare sul bilancio del casino di Bucharest alle prese con le difficoltà della crisi, ha deciso di autofinanziarsi il viaggio e la partecipazione al torneo. E' stata un'emozione incredibile, sono venuta qui per vivere una nuova esperienza, conoscere nuovi posti e nuove persone, ma specialmente perché amo profondamente il mio lavoro. Ringrazio tutti quelli che mi hanno aiutato, in particolare mio marito che è venuto qui con me e mi ha supportato in tutti questi giorni. L'evento, tenutosi al casino di Campioni d'Italia, ha visto la partecipazione di circa 30 croupier provenienti da oltre 20 nazioni, consistente la presenza femminile, rappresentata da 11 donne croupier, tre delle quali giunte in finale. E' un evento importante perché lo realizziamo durante l'ottantesimo anniversario della costituzione del casino di Campioni d'Italia, un compleanno importantissimo per il campione. Per l'ex club italiana il torneo a ECA rappresenta un'importante occasione per presentarsi ad un pubblico internazionale. Campione è storia e arte, non è solo gioco. I nostri maestri campionesi che d'altronde hanno lasciato non solo in Italia ma in tutto il mondo le tracce del loro passaggio, Campione è proprio ricordato anche proprio per loro. Campione è storia e arte, non è solo gioco.